Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo come ultima puntata riguardante questo cd che ci è stato fornito da il mio vicino incredibilmente è venuto lui a portarmelo dicendo che aveva ancora questi vecchi cd con su tutta questa roba quest'oggi come ultima parte andremo a vedere Office per Windows 95 una vera e propria rarità italiana non ci sono più copy perché è la versione Office Professional 95 è una versione molto molto completa che adesso andremo ad installare avviamo il cd, facciamo ok, ok il nostro cdk che abbiamo che ci hanno formito allora vediamo un po' se troviamo il nostro cdk quindi questo non è ci sarà il nostro cdk forse è questo qui allora io non vedo chiave vediamo se riesco a trovarlo su internet allora io non vedo il nostro cdk allora io non vedo il nostro cdk ok siamo riusciti a trovarla la nostra key era praticamente scritta all'interno del cd cioè era praticamente dentro la custodia del cd quindi siamo riusciti a trovarla ok stiamo installando allora possiamo decidere tipica minima tipica mi sembra la più giusta microsoft excel include datamap programma che permette di inserire nelle cartine geografiche partendo da dati forniti dall'utente installazione datamap si installiamo tutto tanto ok come vedete immagini veramente molto semplici registrazione ci permette di capire come si registra il nostro sistema su internet grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, partiamo da Microsoft Access. Chiudiamo questi file. Ok, database. Questo è il programma di database. Ovviamente tutto interamente italiano. Database vuoto. Facciamo crea. Ok, possiamo creare tabelle, querci, maschere, report, macro, moduli. Ora, io non sto qua perché non so come funziona. Devo dire la verità, non mi ricordo più come funziona Microsoft Access, in quanto non uso più questo tipo di database, ma utilizzo completamente programmi differenti come il Ready Pro. Comunque, andiamo a vedere il secondo programma, andiamo direttamente a Excel, quindi di conseguenza avviamolo. Ok, calcolo automatico, bla bla bla. Allora, andiamo innanzitutto a fare una prova di calcolo. 5 più 5. Andiamo a capo e facciamo una formula semplice, come ho fatto anche nei scorsi video. A1 più A2. Giusa a tonda e invio. Ah, ho sbagliato, scusate, se faccio giusto. Vabbè, ho impostato un'altra casella, però come vedete funziona perfettamente. Ora, come vedete è perfetto perché possiamo anche decidere di mettere in grassetto i numeri, di evidenziare, ad esempio fare anche unire le due tabelle tipo in questo modo. Possiamo fare veramente di tutti più, possiamo fare anche forme geometriche sul nostro foglio di calcolo, che poi questa cosa è stata, mi pare, tolta sul nostro sistema, quindi non so per quale motivo. Possiamo creare i grafici, quindi andando a prendere l'intervallo A1, A1, punto e virgola, A2. Poi possiamo creare la torta, l'area grafica, histogramma in 3D, torta in 3D, barra di 3D, anello in 3D e così via. Creiamo linee che mi sembra il più giusto. Usiamo un po' questa grafica. Come vedete è veramente molto semplice. Credo che se noi andremo a modificare uno di questi valori, come vedete cambierà anche il nostro grafico. Come vedete è una cosa veramente bellissima da vedere. Andiamo ad un prossimo file. Il programma in questo momento è PowerPoint. PowerPoint è per creare le presentazioni. Questa mi pare che è stata una delle primissime versioni di PowerPoint, se non proprio la prima, dove si potevano creare queste sorte di presentazioni ufficiali. Quindi, ad esempio, andando a cliccare, potremmo decidere computer, museo, esempio. Poi possiamo decidere qui tutto. Diapositivo 1 di 8. Poi bisognava sforzarci sotto con queste icone, come vedete. Obiettivo e roba di genere. Poi, di conseguenza, noi premevamo F5. Invece qui non è F5 sbagliato, perché mi sa che la funzione non esisteva ancora. Mi sa veramente che non c'è ancora. Ragazzi, se premo F5 non esiste ancora. C'è solo questo modo di visualizzazione. Mi sa che una volta la funzione F5 non esisteva, ma esisteva questa sorta. Dico, a meno che sia questo. Ah no, eccolo qua. Perfetto. Allora, come vedete, la nostra presentazione è veramente molto semplice, molto intuitiva e roba di genere. Però è ovviamente in modo basilare. Non ci sono manco gli effetti, quindi per farvi capire quanto tempo è passato. Poi, schedule più. Microsoft schedula più. Che non so di preciso cos'è. Però proviamo. Crea un nuovo file. Test. Chiamiamolo test, perché non so. Ah! È una sorta di agenda. È un'agenda per il computer. Ovviamente tutta interamente in italiano e della Microsoft. Che è una roba veramente bellissima. dove abbiamo settimanale, mensile, pianificatore, attività e contatti. Praticamente è un'agenda vera e propria. Un database. Poi c'è questo orologio. Esportazione nell'orologio. Nell'orologio T-Mex. Wow. Cioè. Allora, si poteva esportare tutto in un orologio T-Mex. Cos'è un orologio T-Mex? Andiamo a scoprire cos'era. Ah, ok. È un orologio che è praticamente. Adesso io ve lo mostro in diretta. Quindi quello che sta apparendo in questo momento è l'orologio T-Mex. È un orologio praticamente pianificatore Data Link. Che utilizzava, credo, porti infrarossi per funzionare. E permetteva praticamente l'utilizzo del collegamento wireless. Per scaricare tutti i dati. Quindi appuntamenti, dati e molto, molto altro ancora. Questa cosa non la sapevo. Non pensavo che eravamo già avanti così tanto nella tecnologia. Praticamente è l'Apple Watch di oggi. Soltanto che una volta era in questo modo. E questo è veramente molto, molto bello. Comunque, vabbè. Credo che se premiamo avanti non... Why is the monitor is calibrated? Ok. Please wait. Come ready. Controllare che l'orologio indichi come ready. Accostare il quadrante allo schermo e premere ok. Ah. Cioè praticamente... Lui doveva... È una sorta di foto. Guardate. Non ci credo. Cioè praticamente lui utilizzava l'esportazione ad immagine per esportare tutti i dati. È una roba incredibile, veramente. Non pensavo che era così. Bastava accostare lo schermo. Cioè praticamente l'orologio allo schermo. E l'orologio trasmetteva. È incredibile, veramente. Passiamo ad un prossimo... Eh... Programma. Però veramente, ragazzi. Non pensavo che esisteva una roba del genere a quei tempi. Comunque è stata una bellissima invenzione. Andiamo avanti. Qua c'è il nostro elaboratore di testi. Quindi come possiamo decidere il testo. Quindi conseguenza possiamo anche decidere l'icona, la grandezza del nostro file, quindi scusate la grandezza del nostro testo, le dimensioni, del carattere, cioè c'è veramente di tutto e di più. Quindi andiamo a vedere anche l'ultima cosa. Raccoglitore Office. E poi concludiamo qui. Raccoglitore Office, credo che sia un raccoglitore per tutti i file documenti di Word, tipo. Quindi credo che dovremmo andare a importare qua dentro tutti i file tipo PowerPoint, Office, Word e altri programmi. Comunque, dalla Computer Museo è tutto. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo al prossimo episodio della Computer Museo. Ciao ragazzi!